Cristian Belardinelli con il numero 12, Daniele Piundi, numero 13, Stefano Mercatili, numero 14, Paolo Grossetti, numero 15, Danilo Cipolloni, numero 16, Jacopo Valori, numero 17, Marco Alfonso, numero 18, Emilio Pelliccioni, allenatore signor Stefano Filippini. A tutti buon divertimento! Grazie! 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.